più forte, più forte, adesso abbiamo bisogno di voi, con le mani con le mani con le mani si dice là, si dice qua, io non ci sono tanta gente convinta che si stia nella vita, qualche cosa è chissà quanta gente non può è chissà, che si accorgerà non può è chissà, che si accorgerà più cose buono, sei qualcuno che non ha, rispetto per nessuno si dice no, si dice no, si dice no, io non ci sono, si dice no, si dice no, e io non mi muovo tanto gente convinta che ci sia nella vita, qualche cosa è chissà, quanta gente comunque e ci sarà, che si accorgerà si dice no, si dice no, io non ci sono, si dice no, io non mi muovo si dice no, si dice no, io non mi muovo si dice no, io non mi muovo si dice no, io non mi muovo ma chi dice no, io non mi muovo qui dice no, io non mi muovo si dice no, io non mi muovo si dice no, io non mi muovo quindi a me muovo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.